Sì, è un atto sostanzialmente che serve a dedicare maggiore attenzione ad alcuni temi che abbiamo a cuore e il coinvolgimento dei membri dell'assemblea consigliare, in particolar modo di quelli del gruppo di maggioranza, serve per lavorare proficuamente e aumentare il numero di risposte che intendiamo e cerchiamo di dare alla nostra comunità. Nello specifico le deleghe riguardano alcune consiglieri e alcuni consiglieri, a Francesca Poccetti ho assegnato la delega alla valorizzazione del patrimonio immobiliare perché comunque il comune ha un certo patrimonio e deve decidere come svilupparlo, sia che si vada verso operazioni di rigenerazione urbana, di nuove funzionalità, utilizzi, sia anche che si decida di cedere quello che non è più necessario. Poi ho conferito la delega Gabriele Scaramucci per i rapporti con le frazioni, Gabriele tra l'altro è una persona rappresentativa che risiede alla Cicogna e che fin da subito ha portato quelle che sono le istanze, i bisogni delle diverse comunità del nostro territorio e quindi sarà colui che sarà delegato per i rapporti con le nostre frazioni. Alla consigliera Maria Rosa Sacchetti ho conferito le deleghe riguardano i rapporti con la Caritas e la delega al benessere degli animali, sono due argomenti distinti, il primo di fondamentale importanza perché la Caritas rappresenta le associazioni più vivaci del nostro territorio e dedicate veramente ai bisogni importanti ed essenziali delle persone che si trovano in un momento di fragilità. E per quanto riguarda invece il benessere degli animali è una delega importante perché sappiamo quanta sensibilità ci sia a riguardo ai passi che è necessario fare. Per quanto riguarda poi il resto delle deleghe ho conferito alla consigliera Loriana Valoriani la delega alla valorizzazione dell'oasi di Bandella e della Valle dell'Inferno, un'area preziosissima per il nostro territorio, dà un enorme valore naturalistico e che dovrà essere implementata nelle sue attrezzature, nella sua fruibilità e nella sua custodia. E poi ho conferito la delega al consigliere comunale Daniele Lapi per quanto riguarda invece il distretto rurale e biologico del Valdanno Superiore, è una realtà che conosciamo bene perché ho seguito direttamente, che si è sviluppata sempre più in sinergia con tutti i comuni e quindi proseguiremo convintamente in questa strada. A Cesare Rogai ho assegnato la delega che riguarda lo sviluppo del polo sociosanitario che è un'area strategica della nostra città, non solo da un punto di vista urbanistico ma proprio per le risposte che dà ai bisogni dei cittadini e infine a Camilla Migliorini la delega alla cultura della legalità, un tema a cui teniamo molto e ci ha visti i protagonisti nel restituire all'utilizzo pubblico quelli che sono i beni confiscati dalla criminalità organizzata e che oggi vengono utilizzati per finalità di risposta ai nostri cittadini. Auguro ovviamente buon lavoro a tutti e a tutti.